Che dici? Sei pronto? Trovare! Guarda! Guarda che quadrazio c'è! Un taglierino! Scocca a lui! Scocca! Questa va tutto un attimo qui, facciamo dire mentre guidiamo la scocca che ci sta tanta bella nota. Abbiamo anche il termoscanner per la temperatura anuale. Questa è un video a zero? Sì sì! Taglierino c'è uno scotch sta lì? Vai! L'ho tolto quello peggio. Se no faceva attrito. Senti il vento lamine? Il vento lamine? Ok! Ok! Molto bene! Ma che è successo qua? Tutti qua siamo venuti in un posto dei scambisti! C'è un po' che fa questo! Stai in mezzo! Stai in mezzo! Prova! Stai! Stai! Prova! Prova! prima prova con ingranaggio 34 34 ragazzi la squadra ricordo di guardarmi anche dall'altro lato prima di di me vai ed avvisarmi se arriva qualcuno io sono pronto le messaggi alla messa giusta macchina vado ok 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 ci siamo ci siamo ragazzi questo è il record eh lo sento questo è il record ragazzi questo è il record brava piccola brava ci sei Dani? ci so il nastro lo tagli? cazzo il nastro aspetta 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 siamo in diretto live non ho staccato il video ragazzi non ci pensate quattro minuti tieni vai pronti? sei emozionato? un po' dai 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 ce l'abbiamo fatta ora la prima volta scavicchi ma non apra gira la prima scavicchi sei pronto? 100 130 163 ragazzi dai dai riprova dai 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 da dai da dai 256 Grazie a tutti.